Sono Micaela Piras, sono laureata in ingegneria civile, lavoro in Techint dal 2007, nella costruzione da 5 anni. Dopo aver fatto qualche anno di home office, da marzo 2012 sono assegnata al progetto di Dunkirk. Ho iniziato il primo anno e mezzo a Madrid nella task force di questo progetto e poi sono venuta in cantiere come quantity surveyor meccanico. La cosa importante nel mio ruolo è quella di verificare che le quantità che l'appaltatore dichiara siano quelle previste quadratualmente. Il primo cantiere che faccio è del primo progetto esecutivo a cui sono assegnata. Quando sono arrivata è stato il momento più difficile perché mi sono trovata a fare un lavoro nuovo. La sfida di quest'anno è stata venire qua in cantiere a seguire la parte meccanica perché essendo io un ingegnere civile ho avuto la possibilità di approfondire questa disciplina che è fondamentale lavorando nell'ambito dell'impiantistica. Mi appassiona poter vedere crescere un progetto su cui sto lavorando da tre anni. Ho imparato di sicuro che per fare il mio lavoro al meglio è necessario avere flessibilità, determinazione e precisione. Il lavoro di squadra in cantiere è importante perché tutti lavoriamo per lo stesso obiettivo e bisogna rispettare delle scadenze molto strette. Quello che rende unico il mio lavoro in Techint è la possibilità di accrescere la mia professionalità passando da una disciplina all'altra e cambiando ambito lavorativo come in questo caso da Milano a Madrid e poi il cantiere. Il mio più grande traguardo è quello di essere venuta a lavorare su questo progetto che è uno dei più grandi d'Europa e dà valore aggiunto alla mia esperienza. Per l'anno prossimo mi auguro di concludere con successo il mio lavoro qui a Dunkirk e di tornare a Milano a applicare quello che ho imparato in un altro progetto. Grazie. 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 Grazie.